Oh ma buongiorno! Oggi noi abbiamo la top 5 dei miei 5 Pokémon preferiti di canto eh! Alla quinta posizione troviamo Crobat! Avendolo già inserito nella top 5 dei Pokémon in tipo volante dubito che ci sia qualcos'altro che possa dire solamente posso continuare a ripetere che adoravo poter avere questo Pokémon subito inizialmente perché non mi aspettavo che si ottenesse tramite amicizia per Golbat infatti provavo a continuare ad allenare Golbat vedevo che a un certo punto non si evolveva poi ho scoperto che era l'amicizia e quindi me lo son pigliato in quel posto lì ma comunque Crobat si merita la quinta posizione A posizione numero 4 troviamo Forretress Forretress è uno dei Pokémon utilizzati da Koga Super 4 lo metto in top 5 perché cercare Pineko con botte in testa era abbastanza divertente soprattutto quando provava a catturarlo e lo utilizzava autodistruzione invece per Forretress devo dire che l'ho messo anche qui per il semplice fatto che in metagame veniva soprattutto utilizzato come wall per spammare le vita roccia, punte, file, punte dopodiché una bella esplosione e ciao ciao chi si è visto si è visto quarta posizione per Forretress alla terza posizione troviamo un Tiranitar te trovavi tranquillamente magari al Montargento un Larbitar poi si evolveva in Pupitar e non ti aspettavi che porca troia cos'è questa bestia disumana questo gigantesco dinosauro è Tiranitar oh Cristo che fego sì questa più o meno era la mia reazione quando avevo un Tiranitar più che altro quando mi si evolveva un Pupitar in Tiranitar seconda posizione ritroviamo il mio pisellone d'acciaio preferito quale Stilix che continua ad adorarlo ben semplice fatto che la sua mega evoluzione comincia a piacermi sempre e sempre di più non capisco come mai non è fatta così bene come alcune altre mega evoluzioni ma porca troia che figo vengo vengo in bianco lo schermo quindi seconda posizione per Stilix dato che ho già detto qualcosa su di lui e la prima posizione troviamo come mio Pokémon preferito il protagonista di Pokémon Cristallo ovvero Suikun Suikun è bellissimo anche nell'anime quando viene scoperto per un attimino e fugge via con la velocità e la leggiadra di una ballerina la velocità di un fulmine ragazzi miei Suikun è uno dei Pokémon leggendari più belli e più fighi di sempre sebbene la sua forma shiny non è che cambi più di tanto devo dire che è anche un ottimo Pokémon con attacco fisico abbastanza alto da poter utilizzare in un bel metagame quindi ragazzi questa era la mia top 5 riguardante i miei 5 Pokémon preferiti di Kanto quindi se vi è piaciuto mettete un bel mi piace un commento e un'iscrizione ci rivediamo alla prossima top 5 un saluto a Teo e ciao ciao